Io dico questo, che è il mio punto di vista anche personale, che aggiungerebbe molto chiaramente alla collezione Marini di Cirenze, credo che tradire la volontà di avere a Pistoia un punto di riferimento non sia una scelta opportuna, anche perché le collezioni, i musei, sono sempre non soltanto i contenitori espositivi, sono anche segni storici di come un artista o chi a lui si è dedicato a una fondazione, una collezione o un museo si è collocato anche nell'identità di un tessuto cittadino, quindi non è indifferente per Pistoia che ci sia o non ci sia un museo Marino Marini e questo credo sia la cosa che tutti debbano valutare, le istituzioni competenti e chi deve mantenerlo.